Benvenuti nel mondo degli orologi Gucci. Gucci è un marchio di lusso italiano che ha fatto la storia della moda e dell'orologeria. Fondato nel 1921 da Guccio Gucci, il marchio ha conquistato il mercato mondiale grazie alla sua capacità di creare prodotti di alta qualità che uniscono stile e funzionalità. Oltre alla produzione di abbigliamento e accessori di alta moda, Gucci ha anche una linea di orologi di lusso. Gucci produce una vasta gamma di orologi da polso per uomo e donna, caratterizzati da un design elegante e distintivo, spesso con l'uso di materiali di alta qualità come oro, diamanti, acciaio inossidabile e pelle. Molti degli orologi Gucci sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, come il movimento al quarzo e il movimento automatico. Uno dei tratti distintivi degli orologi Gucci è il loro stile unico e innovativo, che spesso incorpora elementi iconici del marchio come il logo GG e il motivo a righe verdi e rosse, rendendoli immediatamente riconoscibili. Inoltre, molti degli orologi Gucci hanno funzionalità avanzate, come la data, i cronografi e le fasi lunari, che ne fanno prodotti completi e affidabili. La gamma di orologi Gucci è molto ampia e comprende sia modelli per uomo che per donna, adatti a ogni occasione e a ogni stile. Tra i modelli più famosi, troviamo il planetario G-Timeless, un orologio dal design eccezionale. Questo segnatempo presenta sul quadrante un'affascinante sequenza di pietre preziose colorate che fungono da indici orari. Queste gemme sono incorniciate da una lunetta cannelebombata e circondate da una corona o ignonzigrinata. Quello che rende davvero sorprendente questo orologio è l'anello sul quale sono incastonate tali gemme, che ruota attorno al turbion al centro del quadrante. Con un semplice tocco di un pulsante, situato in modo coassiale con la corona, si possono generare effetti dinamici e scintillanti. Questa caratteristica conferisce un tocco di magia e di interattività all'orologio, permettendo di ammirare un cambiamento continuo e affascinante sulla superficie del quadrante. I materiali utilizzati per la produzione degli orologi Gucci sono di alta qualità e includono oro, diamanti, acciaio inossidabile e pelle. Molti degli orologi Gucci sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, come il movimento al quarzo e il movimento automatico, che garantiscono precisione e affidabilità. In conclusione, gli orologi Gucci sono prodotti di alta qualità, caratterizzati da un design unico e innovativo, che unisce stile e funzionalità.